E' un messaggio che state tutti come stanno? Non lo spiego nessuno, anzi mi hanno scritto per un gruppo all'università, perché non c'è qualcuno che lavora. Lo senti? Non può stare un po' con voi? No, vedete no. Un film silenzioso. Non c'è un piastro, signor. Davvero? Non c'è un piastro. Non c'è un piastro.